cava ferro srl una grande famiglia che compie 25 anni nata ad opera di vincenzo pezza i figli continuano a portare avanti i valori della gentilezza e della professionalità cava ferro si trova a via cesaro a cava dei tirreni la regione campania scende in campo per il sostegno alla natalità quindi per incentivare anche le famiglie con desiderio di prole sono stanziati 30 milioni di euro come previsto dal piano regionale approvato ieri al termine di una riunione avuta con il presidente della conferenza episcopale campana monsignor di donna con il forum delle associazioni familiari della campania con la caritas con la diocesi di napoli e le aggregazioni laicali approvato il primo blocco di iniziative a sostegno della famiglia e della natalità di cui arriverà a breve in consiglio regionale la proposta di legge tra i progetti futuribili anche un osservatorio regionale per la verifica dell'attuazione del piano e una rinnovata attenzione ai consultori e alle problematiche dell'affido familiare intanto la giunta regionale ha approvato ieri misure importanti e concrete saranno previste misure di conciliazione famiglia lavoro rivolte in particolare alle donne occupate o in cerca di occupazione i servizi compresi saranno quelli dei babysitteraggio fruizione degli asili nido autorizzati per i bambini di età fino a tre anni fruizione di servizi di assistenza pomeridiana ludoteca per i bambini di età dai 3 ai 12 anni attivazione di sportelli di orientamento al lavoro per le donne disoccupate in cerca di occupazione sarà istituito a titolo sperimentale anche un voucher di 600 euro in favore delle famiglie in cui si ha la nascita di figli successivi al primo la regione provvederà a effettuare accordi con le strutture ospedaliere o gli uffici di stato civile al fine di tracciare ogni nuova nascita per la tempestiva erogazione del voucher e ad attivare accordi e convenzioni con le strutture sanitarie e parasanitarie disponibili a fornire i servizi e le forniture per l'utilizzo del voucher che vale anche per l'acquisto dei prodotti per l'infanzia latte in polvere pannolini e quant'altro sostegno per spese sanitarie dei minori anche questa misura a carattere innovativo e sperimentale e prevede un sostegno economico alle famiglie con minori fino a 10 anni e un isee fino a 12.500 euro tramite il rimborso delle spese mediche o dontoiatriche e delle cure o visite specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale sostenute per i minori per un massimo di 500 euro istituito anche un voucher per l'accesso ai nidi destinati a famiglie a 20 requisiti isee per l'abbattimento della retta misura rinnovata anche per l'anno educativo 2023 2024 e prevede l'erogazione di voucher fino a 3.000 euro per il pagamento della retta prevista dai nidi e micronidi rivolte alle famiglie con bambini di età fino a 36 mesi di fino a tre anni il valore del voucher viene modulato in ragione dell'indicatore isee delle famiglie partecipanti che verrà dettagliato nell'apposito avviso pubblico regionale altra misura stabilita ieri è la promozione dell'affido e della bigenitorialità con lo scopo di rafforzare i centri per le famiglie valorizzando la prossimità al cittadino dei servizi territoriali e di supporto alla genitorialità mediante iniziative nello specifico tese alla tutela della bigenitorialità per i genitori separati alla promozione delle procedure di affido familiare compresi gli affidi difficili all'adozione e alla tutela dei minori